Siamo a Trinità per il campionato nazionale AXI su strada, un evento che celebra i 50 anni della società ciclistica Trinità e con Fabrizio Scotto, vicepresidente, Gianni Bugno che è il testimonial e l'ospite d'onore della giornata e Vittorio Bongiovanni dell'AXI di Cuneo. Come sta andando vicepresidente Scotto? Molto bene direi, pensavamo, diciamo così, di avvicinarci 150 iscritti, invece abbiamo superato abbondantemente siamo circa 170, la giornata è bella, siamo felici, la prima gara si è conclusa con un'ottima gara e tutto quanto quindi siamo felicissimi in questa giornata. Campione, bicampione del mondo Gianni Bugno, invece come ha vissuto questa giornata? Sono comportati bene questi amatori, come li vede? È una giornata piacevole, sempre buono, ci sono amatori che sono venuti tanti, parecchi, bene di questo non poteva andare. Lei è un frequentatore della provincia di Cuneo, comunque ha dei ricordi anche qui a livello ciclistico, qui Trinità era già passato e non c'era mai venuto? Sono passato, sono venuto direttamente, però c'era una bella manifestazione, sono stato congiudente. Vittorio, l'ennesimo campionato italiano, anche qui direi che è un successo. Sì, come hanno già detto loro, effettivamente i risultati parlano chiaro. Dopo tanti giorni di attesa nella preparazione, meglio di così non potevamo sperare. Quindi sicuramente ha funzionato tutto bene. Un ringraziamento a Gianni perché è stato con noi, un ringraziamento all'SRC Trinità perché 50 anni si fanno una sola volta e quindi tutto si è chiuso in un miglior modo possibile. Grazie, grazie a tutti. Sì, ok.